Un tavolo istituito con tutti i rappresentanti dei confidi, i consorsi di garanzia collettiva dei fidi operanti in Abruzzo. Una firma che sancisce da subito una buona notizia. Le novità molto semplicemente sono 14 milioni di euro. È un FAS, per la verità, già programmato da molto tempo, che i confidi stavano aspettando. Quando parliamo di confidi, naturalmente parliamo di strumenti che servono a far arrivare le risorse agli artigiani e alle piccole imprese. La seconda notizia che interessa le imprese è l'accesso ai fondi. Ricorda il vicepresidente della regione, molte imprese hanno dato fondo a tutti i loro crediti ed ora arriva finalmente la possibilità di sostenere le micro imprese del territorio. Il 53% degli occupati in Abruzzo è occupato in aziende che hanno meno di 9 dipendenti. Ecco, questa tipologia di aziende oggi e da un po' di tempo ha un problema fondamentale, che è un problema di soldi, di risorse finanziarie. Gli ultimi accordi adesso sono quelli che riguardano le banche. Un passaggio fondamentale per chiudere l'accordo è dare il via all'erogazione per le migliaia di imprese richiedenti. Adesso c'è un contratto che stiamo firmando, c'è una procedura naturalmente. La procedura passa attraverso i confidi, i quali a loro volta garantiscono presso le banche. Quindi adesso c'è da fare un lavoro con le banche perché si rendano disponibili ad accogliere nel modo più rapido possibile queste risorse. Insomma, noi l'altro giorno abbiamo fatto un seminario molto importante con Cassa Depositi e Prestiti per capire come accedere ad altri strumenti ancora.